Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare del videogioco di Cyberpunk, tra l'altro recentemente uscito per PC, vecchia generazione e nuova generazione, compresa anche Google Stadia. Apro una piccola parentesi, essendo un'architettura in streaming, sembra la maniera migliore in assoluto per giocarlo al massimo dei dettagli. Parliamo appunto, come detto, di Cyberpunk 2077 e oggi voglio parlare unicamente del videogioco. Poi qui davanti ho delle cosine che vi faccio vedere nel corso del video, tra l'altro anche il gioco di ruolo, il Jumpstart Kit, che vi ho fatto vedere in un video precedente. Andatelo a recuperare sul canale perché è veramente molto interessante. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Cyberpunk 2077, videogioco, controparti GDR, Cyberpunk Red, nella versione Jumpstart Kit in inglese, la trovate in italiano sul sito della Need Games, che tra l'altro saluto, vi lascio il primo link in descrizione per acquistarlo dal sito della Need Games, e trovate questo Jumpstart Kit di partenza tradotto completamente in italiano. Il manuale vero e proprio di 400 pagine di Cyberpunk è uscito perché questa qui è una demo, non c'è nemmeno la creazione del personaggio, è una demo per giocare, vi butta subito con le regole essenziali. Però è già uscito il manuale completo della Talzorian, solo in inglese. Io penso che nel corso del 2021 sempre la Need Games lo porterà in Italia. Quindi per ora questo è un Jumpstart Kit. Ve lo faccio vedere, si parla del videogioco perché, per darvi prova, che siamo fan sfegatati, vedete all'altro anche della CD Red Project, siamo sfegatati fan di Cyberpunk, sia del 2020, quello vecchio, che del 2077, e qui davanti a conferma mia moglie si è fatto lo stemma della band dei Samurai di Johnny Silverhand, che nel gioco è interpretato da, dar meglio dar meglio, da Kenny Reeves, meglio non potevano scegliere, tra l'altro con la voce di Luca Ward, si è fatto lo stemma, che ora sicuramente con la luce si riflette e non si vedrà tanto, e poi mi ha fatto quello del distretto di polizia, l'NCPD, il Night City Police Department, perché lo volevo e poi ve li faremo vedere anche colorati stampati in FDM, con la stampante in plastica, la roba non la metto un attimino dal lato, tanto non se ne parla, era per farvi un'introduzione e per fugare ogni dubbio che noi siamo innamorati di Cyberpunk, sia il 2020 che il 2077, non siamo qui a spregiare il gioco, però non siamo del tutto, mettiamola così, del tutto, anzi voglio essere onesto, non siamo quasi per niente soddisfatti del gioco che è uscito per PC. E ora vi spiego perché in alcuni veloci punti, non è una recensione, è un vlog, sono un po' di impressione, non è un cosa ne penso, vi vado un po' in elencare i problemi che abbiamo trovato nel gioco. Allora, il primo problema è l'ottimizzazione, però che verrà risolta, quindi non è un problema, secondo me è un qualcosa di momentaneo e passeggero, perché come su The Witcher 3 ci hanno messo sei mesi, per metterlo a posto, però ragazzi ora The Witcher lo giochi dal cellulare, cioè lo giochi dalla Switch, lo giochi veramente da qualsiasi piattaforma e va perfetto tutta d'ultra. Ogni tanto ci può essere una scattina, un rallentamento, però ragazzi un rallentamento c'è ovunque, non esiste, nemmeno con la 3080 vanno sempre fluido e tutto, però comunque il gioco è fluido, mettiamola così, quindi chi se ne frega se non è ottimizzato, fra 3, 4, 10 patch lo sarà, quindi non avete fuga di giocarlo subito, magari lo mettete da parte, per qualche giorno, per qualche patch, magari fra un mese lo giocate, perfetto. Quindi tranquilli ragazzi, è una cosa passeggera. Non state a vedere se è sul vostro computer, ovvio, se avete un computer dell'età della pietra, ragazzi è il momento da aggiornarlo, però se anche su un computer performante come il nostro, ad esempio noi abbiamo una 2060, non gira al massimo, aspettate, non è un problema, lo metteranno a posto, quindi questo non è un problema, è una cosa passeggera. Gli altri punti focali è aver fatto un open world, ora vi faccio vedere un po' di immagini, un open world disumano come quello di Night City, avercelo buttato nel pacchetto come il futuro degli open world, e secondo me quello di The Witcher 3 era fatto molto meglio. Ma si parte dalle piccolezze, una cavolata che sicuramente verrà aggiunta, eh ragazzi, verrà aggiunta, quindi questo video prendetelo ora, lo prendete fra un anno, non voglio fra un anno, anche perché li cancellerò, commenti sotto questo video, eh ma l'hanno migliorato molto, vanno a rivedere. Sì, ma se il video è di un anno fa, io non c'ho il potere della preveggenza, quindi nel caso fra un anno, questo video non lo prendete per buono, parlo di ora, che gioco è appena uscito. Non puoi modellare l'aspetto del personaggio, cioè ti vai a installare degli occhi bionici, poi vedi il personaggio dall'inventario e gli occhi bionici non ce l'ha, c'ha gli occhi normali. Oppure ti vai a installare dei chip, dei cyberware e tutto quanto, e poi non puoi modificare l'aspetto del personaggio. Ragazzi, non c'è un barbiere, ho capito che è un gioco in prima persona, però, quando PG, sarebbe bellino vedere il tuo personaggio, che magari gli hai tagliato capelli, l'hai fatto pelato, gli hai messo dei tatuaggi, non ci sono. Che è una cavolata, non serve a niente, però ti immedesimano più nell'alimentazione, cioè, posso andarmi a fare un taglio di capelli. Grazie. 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 Un'altra cosa che non mi è piaciuta per niente, giravo per Night City nel quartiere di Kabuki, bellissima tra l'altro. Vabbè, la grafica, ragazzi, di Night City è paurosa, ma non parlo della città, parlo del contenuto. Vado, cammino, per andare a cercare una quest, dove andare a prendere un oggetto e consegnarla a una persona, una cavolata, senza furti, senza niente, stranamente una cosa legale, arrivo davanti al classico fast food takeaway alla Blade Runner, no? Dove c'è l'obino lì che taglia arzusci, piccolino, sarà stato tipo due metri per tre sto negozietto, c'era due sgabelli, uno occupato da una persona che quando ci vado a parlare mi fa Ehi tu, che vuoi, non guardarmi così? Vabbè. Ok, vabbè, poteva dirmi salve, mi dica, oppure semplicemente non ho voglia di parlare. No, mi ha risposto male. Vabbè, lasciamo sta. Sembra un po' quando si rivolgevano a Geralt di Rivia, che su The Witcher c'ha un senso, perché se è un Witcher si è visto male da tutti, ma lì no, sei una persona comune. Comunque, prova a sedermi sullo sgabello e non si siede. Cioè, lo sgabello è lì, fammi ci siede. No, ti puoi sedere solo nel caso di dialoghi e di varie animazioni scriptate. Vado a parlare col venditore, che mi guarda e fa Ehi, lasciami stare, oggi sono troppo impegnato a lavorare. Se dai lavorando, voglio da mangiare, mi darai da mangiare, o li tratti così i clienti che vanno via. Ah, vuoi divertirti un po'? Le importate, le importate è che stai bene. Ehi, tutto bene? Quindi risposte scriptate. In più, non potevo ordinare il sushi che lui stava tagliando. Perché? Perché non era un negozio. Cioè, è un negozio nel gioco, però dallo script non è visto come vendor. Quindi te non puoi comprare da lui. Magari devi andare alla bottega accanto che ti vende da mangiare. Ma è una cazzata? Cioè, è lì per strada, mi ci posso? Fermare un attimino. E poi anche per il discorso, un po' di dialoghi. Cioè, se lì che mangi come Deckard in Blade Runner, magari con le bacchette, cibo giapponese, anche da sport e cose del genere, se lì che stai mangiando, magari, come vanno gli affari? E magari lui ti risponde, ma ultimamente a Night City non è che stai andando molto bene fra la guerra, fra le bande e le corporazioni, il lavoro è calato molto. E finiva lì. Cioè, è una cavolata un dialogo con il tizio che sta lavorando mentre io mangio con quello sotto accanto a me. Ora, non ci vuole chissà quanto, due battute, una scelta. Però, ragazzi, cliccate su chi vi pare, a giro per Night City, il bambino. Ha! Soltanto ieri mi hanno regalato un gattino! Ma quando lo trovi mi metto che dice sta cavolata, a giro per strada. Oppure parli con quello messo lì che c'hai, i tuoi stessi capelli, magari la cresta, ad esempio. I tuoi stessi tatuaggi. Pieno zeppo di modifiche, cyberware, ma anche d'aspetto un braccio cromato è uguale, identica a te, uguale. Quindi dal vivo trovi una persona del genere ti guarda e fa, ehi fratella, anche tu con la maglietta dei samurai, ad esempio, ma ti piacciono? Hai sentito quel disco? Una cavolata, no? Ehi, che hai da guardare? Vattene, non ti spacco la faccia. Cioè, ti rispondono tutti così. Oppure, ehi, lasciami stare, non ho tempo da perdere. Ehi, ma che vuoi da me? Cioè, sembra la città di... Scusate, che minchia guardi? Che minchia guardi? Cioè, i soliti idioti. Ok. Che vuoi? Sto aspettando un amico. Ok. Che vuoi? Senti, non mi piace se qualcuno mi fissa. Glegaste a se poco? Che cosa vuoi? Hai qualche spicciolo? Sì? Che c'è? Ti serve qualcosa, John? Fare umor, mia moglie ride. Fare un mondo così grande E non aver possibilità di interagire con la gente Non ti puoi sedere su una panchina e leggerti un giornale Giornale, ragazzi, dal datapad magari Virtuale, tutto, digitale Ma se mi vuoi sedere su una osa E, boh, non lo so Parlare con la persona accanto O andare a visitare un negozio Cioè, è veramente molto limitata la città Gli edifici dove puoi entrare E le cose che puoi fare A parte andare a prostitute In un night o cose del genere A parte velo un po' e fa, eh Anche lì, in Joy Toy Come suggerisce mia moglie Altra parentesi che vado ad aprire E ha ragione Chi si è lamentato le do ragione Io sono sempre contro chi si lamenta Però quando hanno ragione, hanno ragione Perché mi fai fare il pistolino E quello femminile? Perché mi fai fare il sesso di tutte e due? Me lo fai scegliere in creazione proprio esplicita E si vede bene Se poi nel gioco non si vede Capito? Cioè, anche durante le scene sessuali, erotiche Non si vede Cioè, non si vede E in più, quando vai nell'inventare del tuo personaggio Alle mutande Allora, domanda Me l'hai fatto fare in visioni di un possibile Online futuro Per avere rapporti Ma non puoi nemmeno farvi vedere rapporti A mo' di firma pornografico, ragazzi Perché è un videogioco Non va bene Chi se ne frega nessuno Fa due miliardi di... Eh, vabbè Metti il filtro e non le vedi ste cose Però perché mi ha fatto fare quello Se poi nel gioco non serve Capito? È come Conan Exile Che Anche prima ti potevi fare il pistolino e tutto Ma poi nel gioco A cosa serve? A parte per vedere il personaggio nudo Che in Cyberpunk non si vede E in Conan invece lo può vedere proprio completamente nudo a giro Ma a che serve? Anche la scelta dei partner E delle romance Alla fin fine Noi andiamo soltanto ad analizzare L'open world Eh, ragazzi giocano spettacolo Le quest Le quest sono una più bella dell'altra E noi analizziamo però il comparto open world Le romance Con l'uomo può averne diverse Però più che altro sono cose di sesso Più che romance, storie d'amore Ma è normale In un'ambientazione del genere Purtroppo è brutta da dire Chiunque paga per avere l'amore Quindi ci sta Va bene Come anche in Blade Runner L'unica scena d'amore è fra Deckard e il replicante Vi ricordate la donna che è con lui Ma poi tutto il resto ce n'è ben poco È un'ambientazione dove la gente pensa ad altre cose Quindi l'amore è un concetto un po' messo da parte Però se fai l'uomo c'è tante donne con cui andare Se fai la donna L'unica romance con uno del sesso opposto Con un uomo e una Può tutelare le altre scene lesbo E questa cosa Questa cosa Si di Project Red L'ha già fatta in passato con The Witcher Dove Geralt va con tutte le donne del gioco Quelle poche volte che vi fanno usare Siri nei ricordi Cirilla Cirilla una sola volta Si concede a un uomo O prova Per fargli un favore Da amica Non vi dico altro Non voglio spoilerare E poi Siri è lesbica Si la fanno passare come bisex Una cosa del genere Però io guardo i fatti Cioè nel gioco me la fai passare a parole come bisex Però poi è lesbica È gay Quindi non c'è problemi Però sembra che la CD Project Red Abbia dei problemi con le donne Perché non possano avere un rapporto con un uomo Anche in Cyberpunk Vi giuro La maggior parte dei rapporti sono lesbo Ce n'è soltanto uno con un uomo E non vi dico nient'altro Il sistema di guida Abominevole Però Come per i bug all'inizio Non è un problema Perché anche Rutilia Scompariva Appariva sui tetti Il cavallo di Geralt E si guidava male Ora è perfetto ragazzi Perfetto Veramente tiri le briglie per farla girare Quindi ci vorrà un po' di tempo Anche il sistema di guida Quindi questa è una cavolata Poi la polizia di Night City A parte inutile Senti ogni tanto Sentiti spara Bum bum Ma due cazzo sono ferite No? Sparano Bomba a mano Nosa un'altra Ah in questo video Ci sarà qualche parolaccia Bombe Tutto quanto Vai a vedere, cioè la polizia che stanno sparando contro le bande dei criminali Ci sta la Osabella, la polizia spara i criminali E poi magari c'è una pattuglia di quattro, due che sparano E due che stanno alla macchina, così che parlano Ehi, hai sentito cosa ha detto il sindaco? Sì, ma lo ricordo, sembra di vivere 50 anni fa al tempo del presidente Knight Ah sì, quando magari Johnny Silverhand mise la bomba Cioè i tuoi colleghi sono lì che stanno morendo e te parli del presidente Knight Cioè magari ti guardano, ehi tu, abbandona l'aria E intanto c'è tu, 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 buono, sembra il Vietnam, il città E mi ha voglia che ride dietro Poi il bello va a vedere, ci sono i criminali, NPC Di una banda, magari la banda giapponese del quartiere Kabuki Che si spara con la polizia e non si ammazzano mai Tu, 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 tu Sembra di vedere una pallottola spuntata Quando si sparano per due ore da due metri e non si becca mai Altra nota dolente, la Braindance Che è la parte più interessante di questa nuova ambientazione dei Netrunner Ma un po' alla merce di tutti, chiunque la può usare basta che paghi Trovi dei videogiochi e anche dei film, comunque, usè Mettiamola così, pornografici Che te lo dice proprio, sono da utilizzare per la Braindance E poi non li puoi usare Ancora una volta ci si ricollega All'inizio non volevo fare un videogioco Però era bellino mettere il chip nella Braindance E provare questo gioco tipo Space Invader Cioè tanto per fare una scenetta Ma anche quella, la parte erotica, usè Cosa mi fa fare il pistolino se poi non lo posso utilizzare E non lo posso vedere? Cioè è inutile, ho capito che l'editor è qualcosa in più Che ti permette di caratterizzarlo Ma sarebbe come caratterizzare, non lo so Le gambe del personaggio o il vestiario Cosa che poi non vedi mai, effettivamente Quindi è inutile Sul vestiario, apro un'altra parentesi Il sistema di loot è troppo cacciarone Non confusionario, è facile Però ti prendi tutto dove le trovi Tutto Lattine, armi Ti ritrovi con 150 armi nello zaino E ti devi fermare mezz'ora per vedere qual è il DPS migliore Perché tanto poi dopo sceglierai l'arma Con gli slot di modifiche migliori E col DPS migliore Alla finfinista guarda stabilità, altre cose Più livelli fa più danno Siamo sinceri E che c'ha più modifiche Magari con un colore maggiore Fra una viola e una verde O una blu e una verde Sceglierai quella di livello superiore Quindi anche l'armi L'ho vista un po' Un po' inutile Mettiamola così Il comparto armi Però il vestiario È inaccettabile Cioè mi sono trovato Meno male che il personaggio Lo vedete in prima persona Io mi sono trovato il mio personaggio Con un cerato giallo Da pioggia Un caschetto da motociclista Con la visiera abbassata Che sembrava una via di mezzo Fra un personaggio Cyberpunk E uno dei ribelli Di guerre stellari Che c'avevano aver casco Allungato Brutto Non si poteva vedere Vi ricordate In episodio 4 Mi sono trovato Vestito così Con gli occhiali da sole Dei guanti neri tagliati Dei pantaloni In pelle No? In ecopelle E delle scarpe da tennis bianche Che a vedermi da fuori Sembro Non lo so Un drogato Ma nemmeno un drogato Uno scemo Perché il drogato Avrebbe più stile di me Solo perché La roba che indossavo Dava più livello d'armatura È una roba che indossavo È una roba che indossavo Che è una roba che indossavo Quindi invece di avere i pantaloni neri E gli anfibi alti Fino a qui Che non posso modificare Ma che ci stavano No? Gli anfibi alti Fino a qua su Bellissimo Cavolo Un nomade Un samurai Della strada cyberpunk Fa sono sempre le stesse Cioè aiutare la polizia Durante uno scontro Fermare un netrunner Vostro nemico Cioè Non è Non è l'open world Che mi aspettavo Vi dico la verità Ragazzi non mi aspettavo Di fermarmi A fare chiacchiere Con un NPC Per ore 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 Però posso essere sincero L'open world Creato da Rockstar Games Di Red Dead Redemption 2 Quello è un open world davvero Cioè Mi ha messo paura Come disse Every Eye Che hanno avuto ragione E gliene do conferma Quando dicevano Mi sono fermato E la osa mi aveva colpito di più Disse Every Eye Mi sono fermato A seguire un NPC Da mattina a sera Senza intervenire Stando sempre lontano Senza tirare fuori la pistola Nel niente Per vedere cosa faceva Quella NPC L'ha beccato A Valentine Al Saloon Poi si è spostata Alla fattoria A lavorare nei campi E a sera È tornato a casa Col cavallo E si è messa a letto A dormire Cioè Ha un corso Ha una vita Quella NPC Fino a che non l'ammazzi Fa qualcosa Magari la sera dopo Lo ritrovi ubriaco Al Saloon Se lo segui Queste cose in cyberpunk No Quando uno gira l'angolo È finita Cioè Ha tagliato la strada Ha girato l'angolo E non fa nient'altro Per favore Quei due che trovate Che vi parlano sotto casa Dicono sempre le stesse cose Oggi Domani Dopodomani Diranno sempre le solite cose Il matto fuori Dalle modifiche del cyberware Dice sempre le stesse cose A distanza di 4 giorni Che l'ho visitato Dice sempre Quindi È un open world Fittizio Morto Cioè È un open world Vero Però Non è vivo Per niente Allora Vogliamo parlare di ieri È tutto nel rapporto Ah l'ho letto Non mi sembra Che ci sia scritto Che ti ho portato via Da lì a forza Sì Non importa Tanto non è che Quel cyber psicopatico Fosse chissà che Minaccio Allora Vogliamo parlare di ieri È tutto nel rapporto Ah l'ho letto Non mi sembra Che ci sia scritto Che ti ho portato via Da lì a forza Sì Non importa Tanto non è che Quel cyber psicopatico Fosse chissà che Minaccio Ma che cazzo Ti salta in mente C'è un motivo Non parlo ragazzi Di quest bellissime Non parlo di grafica Stupenda Non parlo di ottimizzazione Non parlo di bug Questo video E lo metto nel titolo Così non ci si sbaglia Lo dedico unicamente All'open world Che è finto 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 China night city Davanti a te Potresti fare Tutto quello che ti pare Non puoi fare Niente Puoi fare le missioni Principali Secondari E andare nei luoghi Che il gioco ti dice Dove puoi andare E non parlo di edifici Dove puoi entrare Perché non potevano In aprire tutta la città Non lo fa Rockstar Non lo fa CD Project 3 Va bene Però le cose che puoi fare Perlomeno un po' più varie Un po' più Cioè sono nel futuro Non c'è più un limite a niente Posso fare qualsiasi cosa Mi posso Una cosa che mi viene in mente La posso fare Può fare un po' niente Quindi Alla fin fine Questo Cyberpunk 2077 È un aborto È uno scarto No Per me è un gioco Che ha tante potenzialità Ma La mia paura è che L'abbiano fatto uscire Un po' nel cesso anticipato Vi dico la verità L'hanno fatto uscire E aspetta E aspettate È uscita nel 2020 Dove uscire nel 2019 L'hanno rimandato di un anno Come faceva a uscire un anno fa Possibile Quindi Secondo me L'hanno fatto uscire Un po' troppo Presto Ci voleva ancora un annetto Perché non è Non è l'open world Che loro ci hanno assicurato Ragazzi non lo è E non lo dico per cattiveria Vi ripeto C'ho tutto di Cyberpunk Quindi non mi criticate O qualsiasi cosa Io amo Cyberpunk Però Mi ci viene un po' Da piangere A girare Per una città così grande E allo stesso tempo Così vuota E monotona anche Comunque ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate È un gioco Assolutamente da comprare Però questa cosa Ci sono rimasto Molto 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 male Per come l'avevano Propinata E ce l'avevano presentata Sembrava qualcosa Di molto più grande No Per me Non ci siamo assolutamente Ciao ragazzi Alla prossima Fa tutto schifo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima